Grazie Antonio, ti seguo a ruota fra poco con la giacca, anzi senza giacca. Un saluto a tutti e un particolare ringraziamento alla Fondazione Sicilia che oggi ci ospita in questo bellissimo palazzo anche se speriamo quantomeno una maggior ventilazione se non l'aria condizionata. Il dottor Puglisi che è presidente della Fondazione si collegherà penso tra poco ha dovuto volare a Roma per un impegno a Canale 5, penso che si collegherà nella mattinata con noi come pure si collegherà con noi il ministro Clini che doveva essere presente oggi ma che poi dopo ha avuto un impegno in Borsa Italiana stamattina a Milano appena finito si trasferirà da Borsa Italiana alla sede di Asso Lombarda dove è previsto appunto il collegamento che avverrà grosso modo verso le 12.30-12.45. Un saluto particolare diciamo innanzitutto un saluto a tutti voi che siete qui presenti, un saluto a tutti quanti i relatori ma costituirei un saluto particolare al dottor Crespo che è il presidente di Estela, l'associazione europea che raggruppa tutte quante le associazioni che come Anest si occupano di solare e termodinamico e all'ingegner Lelli che è il presidente, il commissario di Enea e che oggi è qui con noi e poi parlerà successivamente. Con questo non voglio fare distinzioni particolari tra gli altri, con tutti quanti gli altri relatori che interverranno durante la giornata. Comunque mi sembrava doveroso appunto soprattutto per loro dare un particolare e saluto di benvenuto e di ringraziamento per la partecipazione. Volevo darvi rapidamente una informativa su Anest perché penso che molti di voi non la conoscano. Prego se la regia mi collega lo schermo. Spero che lo facciano. Perfetto. Sono da poco presidente dell'associazione, come vedete il mandato parte dal 2012 per tre anni fino al 2014 e qui presente in sala e saluto anche lui caldamente il mio predecessore che è stato anche il primo presidente di Anest Cesare Fera che poi guiderà e condurrà la sessione pomeridiana come c'è Herman di questo convegno. Vedete qui elencati le persone che fanno capo, che compongono il consiglio direttivo attuale che è stato eletto appunto a Verona durante il Solar Expo. Queste sono le aziende che hanno espresso delle persone, dei tecnici soprattutto, che vanno a comporre un consiglio particolare che ha delle deleghe specifiche in materia di attività internazionali e soprattutto per quanto riguarda Paolo Martini si occupa di strategie di mercato di settore, Enrico Savoldi di Techint del progetto Res4Med, Dottor Baresi di Turbode nei rapporti con la Comunità Europea, Dottor Arioli di Soltigua per quanto riguarda tutta la parte del Comitato Energetico soprattutto con un focus per quanto riguarda il solare termico a media temperatura e l'Ingel Giacomi di Enel Green Power per quanto riguarda tutta la parte di innovazione e di rapporti con gli istituti di ricerca. La mission di Anestr è l'assalto perché mi pare abbastanza ovvia che è soprattutto quella di promuovere la cultura dell'utilizzo razionale del sole soprattutto in forma concentrata e ovviamente con la trasformazione della radiazione solare in calore che poi darà vapore, che muoverà principalmente le turbine. Questi sono i nostri associati, li potete leggere, vedere, poi casomai questa presentazione può essere disponibile a chi ne farà, penso ne metteremo anche sul nostro sito, anzi è già sul nostro sito. Sono attualmente 25 aziende, sono presenti diciamo come soci, stiamo avendo ulteriori adesioni proprio in questi ultimi tempi dato anche dal particolare interesse che il decreto, poi ne parleremo bellissimamente, poi adatto al solare termodiamico per cui l'interesse di moltissime aziende in questo momento più che verso il fotovoltaico, proprio verso l'energia solare e termodinamica, contiamo di arrivare a una quarantina di soci entro l'inizio del prossimo anno. È inutile dire che l'Italia ma soprattutto la Sicilia è del motivo per cui siamo qui oggi, è il luogo particolare per questo tipo di tecnologia, mentre il fotovoltaico può essere usato, avete visto la stessa Germania è diventata il paese guida, almeno a livello europeo per quanto riguarda la tecnologia solare fotovoltaica, noi pensiamo che l'Italia, non solamente la Spagna, possa essere il luogo dedicato alla tecnologia solare e termodinamica e ovviamente la Sicilia è la zona e la regione più adatta allo sviluppo di questa tecnologia, anche perché è un naturale ponte, poi vedremo, verso i paesi della Nord Africa e anche, perché no, del Medio Oriente. Questa è la distribuzione dei nostri soci attuali, ci auguriamo ovviamente di avere anche futuri soci in Sicilia, perché oltre a essere un luogo dove installare le centrali, noi vorremmo che la Sicilia diventasse parte di una filiera industriale, per cui di creare in Sicilia quelle che sono, diciamo così, aziende che potranno fornire componenti sottosieme, ma perché no anche elementi chiave della tecnologia solare e termodinamica, per cui per sviluppare una vera economia e non solamente andare in un posto per delocalizzare la fonte produttiva di energia. Parlavo del decreto che è stato emanato a metà giugno, il ministro Clini ci ha particolarmente, diciamo, tenuto in considerazione, ha cercato di premiare soprattutto due tipi di tecnologie, che sono proprio il solare e termodinamico e il geotermico, dove proprio l'Italia vanta delle esperienze e delle tecnologie proprie, come sapete tutti quanti le discussioni che ci sono state sul fotovoltaico, perché la stragrande maggioranza dei componenti, del valore dell'impianto fotovoltaico, veniva importato dall'estero e soprattutto dalla Cina. Ebbene, nella tecnologia solare e termodinamica, possiamo dire che c'è una tecnologia tutta italiana, che è stata sviluppata nei laboratori dell'Enea, da ben dieci anni, che vede Enea ancora come elemento di punta, ma questo l'ingegnere Lelli ve lo spiegherà poi nella sua relazione, per cui conta su una tecnologia italiana che 25 imprese italiane hanno cercato di sviluppare e sono entrati in questo mercato e in questo mercato credono e ci crede anche il governo. L'incentivazione che ci è stata data in termini di megawatt non è molto elevata, però noi siamo convinti che, facevo l'esempio ieri, è come un treno, un treno nella fase iniziale ci vuole molta forza per poterlo farlo partire, poi una volta partito l'attrito è modesto, per cui il treno può continuare con uno sforzo relativamente basso. Noi pensiamo che la tecnologia solare e termodinamica possa proprio fare questo, cioè il decreto possa far partire questo treno e una volta avviato poi sarà abbastanza inarrestabile. Pensate che a livello mondiale ci sono dei progetti a dir poco giganteschi. Quello che noi faremo in Italia non è un qualcosa che servirà più di tanto al mercato nazionale dell'energia. Non possiamo pensare che 600 megawatt o un gigawatt o quando anche si arrivasse a due gigawatt siano risolutivi per il nostro programma energetico che tra l'altro non so quando vedrà alla luce un programma nazionale effettivamente concreto con i chiari indirizzi da parte dei nostri governi, qualsiasi essi siano. Ma come uso di dire di solito quello che faremo in Italia sarà importantissimo perché servirà da palestra per tutto quello che faremo poi dopo. Le esperienze, le sperimentazioni sono vitali per cui gli impianti che faremo qui serviranno a dare quel know-how tecnologico, quella leadership alle imprese italiane che poi potranno effettivamente meglio competere sui mercati internazionali. Solamente due esempi perché li stiamo seguendo con particolare attenzione per vari motivi con l'azienda che rappresento anche che produce tubi e ricevitori solari proprio sulla tecnologia di Enea. In Arabia Saudita il KIA Care si chiama Kirill Abdullah Center of Atomic and Renewable Energy ha un programma di sole energie rinnovabili fino al 2032 di 51 gigawatt di potenza 51 gigawatt di cui 10 di energia eolica 16 di energia fotovoltaica e ben 25 gigawatt 25 mila megawatt di energia da CSP da solare e termodinamico. Pensate a un mercato che sarà sterminato cioè più di un gigawatt all'anno mediamente di impianti penso che se le aziende italiane potranno inserirsi in questo mercato con la tempistica dovuta saranno veramente avvantaggiate. Un altro esempio poi non ne faccio altri perché ce ne sarebbero veramente tanti abbiamo firmato un contratto preliminare con la mia società in Cina per produrre la prima centrale a salifusi nel Tibet nel plateau del Tibet a quasi 3.000 metri di quota sembra incredibile ma la reglazione solare è molto elevata la pioggia è scarsissima bene in quella zona nel Gansu province si chiama il piano prevede 15.000 megawatt di potenza 200 chilometri quadrati di totale deserto che però ha il vantaggio di avere dei fiumi vicino per cui la disponibilità anche di acqua di avere una variazione data sapete quanto è l'inquinamento che c'è in molte zone della Cina in questo caso ovviamente non c'è ecco anche lì 15.000 megawatt pensate quale possa essere diciamo la prateria sterminata che si offre alle imprese italiane non vorrei tediarvi molto ancora con tanti dati questo diciamo è il discorso vedete la Sicilia che è la zona più soleggiata che abbiamo e tra l'altro è inutile ricordare anche che siamo nella regione in cui è nato il Solare almeno per quanto riguarda storia o leggenda che possa essere nel 202 mi pare avanti Cristo il Consolo di Marcello attaccò Siracusa e Archimedes inventò gli specchiustori io non so se ha bruciato perché gli specchi sapete che erano fatti in materiale in rame lucidato chiaramente non c'erano le tecnologie di oggi questo è ovvio io non so se si è riuscito effettivamente a bruciare le navi però forse qualche romano qualche bruciacchiatura l'aveva anche presa per cui anche se poi purtroppo fu ucciso durante poi l'occupazione di Siracusa però ecco dicevo proprio da questa zona da questa regione bellissima tra l'altro noi vogliamo partire per sviluppare la tecnologia del solare termodinamico presenteremo oggi come ha detto il dottor Cianciullo la carta del sole la firmeremo in un certo senso in diretta insieme al ministro Clini e le altre avremo anche alcuni candidati come forse saprete alle nuove alla presidenza della regione Sicilia però tutto questo non vorremmo che restasse sulla carta non deve assolutamente restare una intenzione noi vogliamo dare un seguito a tutto questo ne parleremo anche con il dottor Puglisi quando si governerà con noi per cercare di dare una continuità potremmo anche pensare a far sì che questo bellissimo palazzo possa essere anche la sede periodica di incontri direi quantomeno annuali per continuare a spingere non solamente a monitorare quello che avverrà nella vostra regione ma tutto questo penso che necessiti anche un cambiamento di tutti noi non è facile in un contesto economico in cui si consumano 80 milioni di barili di petrolio al giorno sostituire questi 80 milioni ovviamente se ne diceva ieri sera a cena non è una cosa facile e neanche può essere diciamo vista in una visione troppo integralista dobbiamo far sì che questo petrolio venga utilizzato nel migliore dei modi possa durare più a lungo i prezzi possono essere calmierati tutto questo potrà avvenire con l'utilizzo intelligente dell'energia rinnovabile ma anche dell'efficienza energetica che è l'altra cosa che dà un vantaggio competitivo immediato le energie rinnovabili vengono un pochino dopo ma devono partire subito ovviamente allora dicevo tutto questo cambiamento e poi chiudo deve partire da tutti noi dobbiamo contare moltissimo sulle nuove generazioni io non faccio parte di queste generazioni però non dobbiamo dimenticarci neppure di chi il giovane non lo è più però dobbiamo veramente puntare sui giovani i giovani vedono il futuro con occhi diversi con occhi nuovi rispetto ai nostri e sono più facili possono essere più facilmente soggetti a un discorso di cambiamento dicevo le persone della mia età il cambiamento lo vedono molto più difficilmente realizzabile però dobbiamo arrivarci a questo cambiamento dobbiamo far sì che la green economy l'efficienza energetica in generale quello che qualcuno comincia a chiamare ormai la green society perché oltre efficienza energetica e le fonti rinnovabili c'è anche un qualcosa che viene da dentro un qualcosa di etico un comportamento etico nei consumi responsabili poi penso che Angelo Consoli parlerà anche farà un accenno nella sua relazione e tutto questo deve portarci a far sì di essere attori e non solamente spettatori di questo cambiamento ricordo a chi è imprenditore ma questo vale anche per chi è manager che un buon imprenditore un buon manager viene misurato non tanto per quello che ha fatto ma per quello che farà ecco io mi immagino e spero che tutti quanti noi potremo lavorare insieme per fare sì che questo cambiamento avvenga e ricordiamoci che il risultato non può essere mai lo sforzo solamente individuale ma uno sforzo di tutti quanti insieme per questo vi invito a seguirci nella carta del sole vi invito ad agire tutti subito e insieme grazie grazie